E' una tostera magnifica, vedete? Questa sulle tribune, i tifosi si fanno sentire, provano a spingere la propria squadra. Grande calcio nuovamente protagonista qui su EA Sports, un saluto da me e da Lely Adani. Scendono in campo oggi per questo impegno di club. Incontro con molti spunti interessanti. E' sempre un piacere essere qui in compagna tua e dei nostri amici a casa. Sento delle vibrazioni positive per oggi. Sono convinto che ci divertiremo. Intuisce bene qui, recupera il pallone. Occhio perché c'è un buon recupero. Cerca il pallone profondo. Il portiere legge bene la traiettoria e interviene. Palla di nuovo in loro possesso. Fritz. Il pressing dai suoi frutti, palla recuperata. Può essere il pallone del vantaggio. Tentativo disinnescato, senza problemi dal portiere. Mira all'assi. A metri lungo la fascia per avanzare. Ottima lettura difensiva. Deac. Portiere super qui, intervento prodigioso. Ha passato la saracinesca. Da qui non si passa. Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Buona lettura, corre il vio lungo. Perde palla. Ang Ban. Porta palla lateralmente. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio. Azione che sfuma. Gran tiro. Parata straordinaria. Come un gol. Prova a servire il compagno sul secondo palo. Palla nuovamente in calcio d'angolo. Palla messa in mezzo. Conclusione di testa e palla alta di poco sopra la traversa. C'è andato vicino qui, l'alzata solo un po' troppo. Può avvicinarsi alla porta. Cross verso il centro. Si supera il portiere. Sembrava un tiro a botta sicuro a questo. Ma ha reagito in una frazione di secondo. Il portiere si oppone bene a questo tiro. Ang Ban. Del Piero. Si to' male qui il pallone. Riconquista la palla in zona d'attacco. Attenzione. Intercetta la conclusione. Pericolo scappato. Chance dalla bandierina per spezzare la situazione d'equilibrio. Palla in area di rigore. Pericolo scampato con questo pallone. L'arma del vantaggio si gioca. Matuidi. C'è la touche. Si riparte con la rimessa laterale. Palla spazzata via. Azione che sfuma. Ang Ban. Entrata fuori tempo e qui può starci il cartellino. Evita guai. Mira all'ass. Pericolo. Palla persa. La gira indietro verso il coppano. È pronto per la battuta di questo calcio d'angolo. Lo possono trovare il gol del vantaggio sugli sviluppi di questo corner. E l'occasione va sfruttata. Come sottolineato anche dai tifosi. Esce nel traffico il portiere e la blocca. Ottima lettura. Recupera il pallone. Matuidi. Concede la touche. La rimessa laterale. Punta la porta. Palla fuori. Sarà corner. Palla messa in area. La risposta ma non è finita. Finisce qui la prima frazione. Squadra a riposo. Stamford Bridge. Stamford Bridge. Stamford Bridge. Comincia il secondo tempo qui a Sanford Bridge Interviene a lontana Va con il possesso palla Si mette bene sulla traiettoria lontana Contrasto efficace nei 16 metri C'è campo, attenzione, la squadra è sbilanciata in avanti Risolve una situazione complessa Si ripartirà dunque con un calcio d'angolo Un'ottima chance per portarsi in vantaggio Non bene qui il possesso palla Angban Attene il momento giusto per scaricare il pallone Occhio alla conclusione Miracolo del portiere L'arbitro ne ha comunque fermato tutto per la posizione di fuori gioco Fa su il pallone intercettando il passaggio del portiere Palo si gioca ancora Si riprenderà con la rimessa laterale Buono intervento del difensore Palla in palo laterale Angban Angban Ottima qui da giocata L'arbitro è spinta ma non è finita Nulla di fatto dunque Matuidi Recupera palla intercettando bene il pallone Ha spazio per andare Efficace la pressione della difesa Recupero del pallone Ci sono metri a disposizione Prozza in area Ottengono un calcio d'angolo Corre in area La spazza via Ha interrotto l'azione con un super intervento C'è la tush Si riparte con la rimessa laterale Palla riconquistata dagli avversari Proseguono nell'avanzata Succedimento interessante nell'area avversaria Grande recupero difensivo Situazione complicata Mira all'ass Del Piero Occhio al pallone filtrante Intercetta il cross e spazza via L'arbitro sanziona l'intervento Con il calcio di punizione Fritz Conclusione che non trova la porta Decisiva la deviazione Palla in rete Hanno aperto le marcature Grazie a questo gol E ora attendiamo la reazione degli avversari Dovranno fare i conti anche con la stanchezza Che inizierà a farsi sentire Passano dunque a condurre in questo finale Rite pesantissima Del Piero Cerca tra l'ai compagno Occhio al suo movimento Si oppone al traversone Arbitro che assegna la dimessa con le mani Cerca il secondo palo Spezza l'azione e rinvia Fa su il pallone Spazza via Fuori gioco netto Si alza la baglierina dell'assistente Beh Pier Era praticamente impossibile Non accorgersene Allora nel basket Avrebbero fischiato Infrazione di tre secondi D'accordo fare da punto di riferimento In area Ma così è troppo Muoversi Gara che volge al termine Il risultato che sorride Dei padroni di casa Che dovranno resistere Gli ultimi assalti Non è facile conservare La lucidità dopo aver speso tanto Pier Questo va detto Per mettere la vittoria In cassaforte È normale che Deve alzarsi il livello Della concentrazione Vanno chiusi tutti gli spazi E poi magari Sfruttare nelle ripartenze Qualche buco lasciato Dalla retroguardia avversaria Occhio attraversione al centro E il pallone entra Adesso è una doppia del vantaggio Match che riprende An allungato portandosi sul 2-0 A metri per andare Occasiona della bandierina La mette in area Spazza via questa palla Conquistano un nuovo calcio d'angolo Il tocco dentro Interviene e libera Bene quel portiere Che esce E elude il pressing avversario De Hac Matuidi Il quarto uomo Segnala due minuti di recupero Lascia partire il cross Riescono a recuperare bene Del Piero Finisce il match Con la felicità dei tifosi Della formazione di casa Per questa bella vittoria Un successo Giunto al termine Di una buona prestazione Le due Le due Le due Le due